Il riscatto della brutta prestazione contro il Pergocrema arriva il sabato a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Al termine di una gara controllata bene nel primo tempo arrivano i tre punti, due azioni nella ripresa, perfette. L'assist di Diuric per il gol di Sacilotto sblocca il risultato. Questo è un fuorigioco del bosniaco, giovanissimo, inserito al centro dell'attacco da Bisoli. Giaccherini sulla destra, questo è Diuric, capabilmente difende palla e la mette lì per Sacilotto che realizza sottomisura. E poi arriva il gol del 2-0. Il bis è segnato da Giaccherini. La rete del 2-0. Dopo un'altalena inebriante con la propatria, il Cesena è di nuovo al primo posto solitario.